Ma guarda, sinceramente non ho neanche visto il fatto, nel senso che ho letto qualche agenzia. Devo dire che mi sembra di aver capito che ha partecipato alla Zanzara sicuramente in un contesto, diciamo, di una trasmissione che assolutamente fa satira, è molto informale, molto easy rispetto all'impostazione. Dico questo, dico che l'assessore si deve scusare, quantomeno visto e considerato che stiamo parlando e conosco la sua sensibilità e quindi penso, immagino, che non so, magari è già provveduto, lo farà. Io non l'ho sentita, prometto questo. Facetta nera riprende purtroppo un periodo storico buio della nostra storia, è inevitabile che molte persone abbiano urtato la loro sensibilità nel vedere episodi come questi perché stiamo parlando del periodo delle leggi razziali, del colonialismo, stiamo parlando anche della condizione femminile in quei territori della Bissina e tutto quello che conoscete meglio di me, conoscete le mie idee e penso che siano doverose le scuse. Dopodiché prendo atto di tutte queste richieste, ne ho tutti i giorni di queste richieste.